Allora, innanzitutto parliamo di HPV, che cos'è il papilloma virus umano. Anzitutto è un virus a DNA AA, le canone capsulato, ha dei capsidi, 72 capsomeri. Sono tutte cose che queste più o meno sappiamo già. La cosa interessante è che ce ne sono numerosi HPV, quindi umani, più di 100, che si dividono in alto e basso rischio. L'alto e basso rischio è dato unicamente dal fatto che il virus potrebbe portare a un processo di cancerogenesi e se può portare, è di quelli che può portare, si chiamerà ad alto rischio. Sono circa 15-16 ad alto rischio. Tutti gli altri sono a basso rischio. Poi ce ne sono tanti che conosciamo di HPV, no? Tipico che so dire io, non so, l'1 per esempio è quello che dà gli warts del piede, delle dite. In piscina, chi non è andato, chi non si è preso, qualche volta va bene questi piccoli porri, sembrano porri o caldo sia. Bene, sono lesioni virali dati dall'HPV, anche questi, ma è HPV1, ad esempio, e così via. Bene. Però c'è un fatto, ha delle caratteristiche diverse dagli altri patogeni trasmessi per via sessuale. Perché? Perché la trasmissione sessuale è quella che ci interessa di più ed è la più importante. Innanzitutto le infezioni sono transitorie. Alcune rimangono persistenti, ma la grande maggioranza se ne vanno. I tessuti e gli organi bersaglio sono i più diversi e lo vedremo. La trasmissione può essere anche per contatto indiretto, anche questa è un'altra cosa interessante. Per lo più le lesioni, o meglio, per lo più l'infezione, chiamiamola così, è asintomatica. La patologia è a latenza breve in alcuni casi, tipico i condilomi, oppure latenza molto più lunga, fortunatamente, i tumori. La prevalenza nelle donne? Nella donna la grande esposizione è naturalmente all'inizio dell'attività sessuale e ha come picco all'incirca i 20-25 anni. Non bisogna spiegare il perché. La cosa interessante è quella che rispetto alla curva che vedete adesso c'è una modifica, stanno per uscire ormai le nuove modifiche internazionali, vale a dire tra i 40 e i 50 anni c'è un nuovo picco, quella che si chiama la seconda gobba, quindi da dromedario diventa un cammello. La seconda gobba, va bene, che è verso appunto i 40 anni, data naturalmente dal fatto che molti si separano, è l'età nella quale ci sono i nuovi partner, altre cose. Mentre nell'uomo, l'uomo è stabile evidentemente nella sua sessualità. Nell'uomo c'è sempre, come vedete, circa, va bene, siamo circa un 60% nelle varie età, distribuito nelle varie età. Questo non ha, voglio dire, non ha nessun significato da parte mia una cosa di questo tipo, però così prendetene nota. L'isolamento, secondo il sito anatomico dei maschi eterosessuali, negli uomo sessuali è una cosa un po' diversa, Beh, come vedete, asta, corona del glande, lo scroto, canale perineale, canale anale, eccetera. E c'è anche il seme, vedremo poi la questione del seme perché è estremamente interessante per quanto riguarda naturalmente la fertilità. È correlato a numerose patologie, certo, innanzitutto il cancro del collo dell'utero, ed è così che è sorta l'idea, va bene, dell'infezione da HPV e da cancro. Cancro del collo dell'utero, vi ricordo che Zurhausen ricevete il premio Nobel nel 2008 proprio per questo, e 100%, quindi non c'è cancro del collo dell'utero che non sia dato dall'HPV. Poi, quelli anali, più del 90%, vagina può essere tra il 60 e il 90, i condilomi genitali, la gran parte di questi, che però non sono dati dall'HPV, quello ad alto rischio, ma sono dati da quello a basso rischio, il 6 e l'11 in particolare, il cancro vulvare e il cancro del pene per circa un 40%, il cancro della faringe per un 30% e cavità orale per un 10%. Ho tralasciato le tonsille palatine perché quelle sono al 90%, quindi la gran parte dei cancro del tonsille palatine, 1200 casi all'anno, quindi non sono pochi, va bene, in Italia, bene, sono dati proprio dall'HPV-16, tra l'altro. Allora, da questo si capisce che effettivamente è l'attività sessuale che porta, che può portare a queste patologie. L'ultima nata è naturalmente il cavo oro faringeo, i rapporti orali, va bene, possono portare a questo, in particolare più nell'uomo che non nella donna. L'altra cosa è quanto tempo ci vuole per avere la patologia HPV correlata. Beh, pochissimo se andiamo a vedere le lesioni intrapiteliali di grado 1, cioè proprio di basso grado, pochissimo se andiamo a vedere i condilomi, qualche mese o addirittura a volte qualche settimana, a volte qualche giorno dopo il rapporto sessuale con chi è affetto da condilomatosi porta ad una condilomatosi, mentre circa un 5 anni per avere delle lesioni intrapiteliali più avanzate e un periodo molto più lungo, spesso 10 o più anni, per avere il vero e proprio tumore. Beh, se andiamo a vedere, qui purtroppo non si vedono benissimo i colori, ma i sessi, i tambi i sessi, beh, vediamo i numeri che ci sono in Italia. Sono dei numeri interessanti, 2290 canchi della cervice, 129 canchi del pene, uno si aspetterebbe di più, ma in realtà il pene è un organo che rapidamente porta alla clearance dall'HPV, va bene, per cui questo è uno dei motivi per i quali, mentre oggi stiamo andando a vedere molto di più i cancri dell'uretra, che non sono così frequenti, è vero, ma un'altra cosa interessantissima, che si cominciano a vedere associati all'HPV. Quindi, attenzione, voglio dire, è effettivamente una bestia interessante. I condilomi genitali, effettivamente, qui sono 4.930, 4.137 mila nelle donne, in realtà non credeteci a questi dati, questi sono i dati che sono riportati, in realtà la verità, quella vera, si parla all'incirca di non meno di 110 mila, 120 mila casi nell'uomo, va bene, e di circa 100 mila casi nella donna, quindi più di 220 mila, e in Europa, dove si parla di 350 mila globali, in realtà, non credeteci, sono circa 2 milioni. L'introduzione poi dei test molecolari per la ricerca del papillomavirus ha aperto degli scenari interessantissimi. nella gestione delle donne con un pap test anomalo, in quanto, siccome abbiamo visto che ci deve essere l'HPV per avere cancro della servizia, se c'è un pap test anomalo, si va a vedere se c'è l'HPV ad alto rischio, se non c'è, potete stare tranquilli che non avrà mai, va bene, non avrà mai il cancro, avrà magari qualche displasia, va bene, ma non andrà in cancro. Da questo si è passato oggi, addirittura, ad avere il test dell'HPV come test di screening primario, per andare a vedere poi la citologia se dovesse essere positivo per l'alto rischio. Questo però va fatto solo e soltanto dopo i 30 anni, anzi 35 anni, per ovvi motivi, perché altrimenti troveremo un mare di ragazze, ragazze, va bene, che sono positive, allora si farebbero tutto, una serie di esami ed altro, ma la clearance, vi ricordate, avevo detto prima, è transitorio, va bene, la clearance è rapidissima e allora tanto vale fare il pap test in quella popolazione e fare invece l'HPV dopo i 35 anni, chiusa la faccenda. Bene, la stima di spesa per le patologie, poi arriviamo alla fertilità, HPV correlate, beh, si parla tra i 210 e i 280 milioni di euro, va bene, soltanto per, nella donna, per le patologie HPV correlate, ogni anno. Nella popolazione maschile, anche qui, va bene, il ruolo è importante nella trasmissione dell'HPV, questo è naturale, l'abbiamo già detto, con dilomi, tumori penieni, tumori anali, cavità orale, faringe. Un capitolo a sé va aperto, e lo chiudo subito, per quanto riguarda gli omosessuali. La categoria, chiamiamola così, di omosessuali, va bene, ha 37 volte più probabilità di avere una patologia a livello del canale anale rispetto a quelle invece di quelli strettamente non omosessuali. In Europa si stimano 325 mila casi di patologie HPV correlate, come ve l'avevo detto prima. In realtà dobbiamo credere solo ai 1.100 peni e 1.000 ani, va bene, che sono sicuramente tali. 18.000 tumori maligni, testa e collo, che non sono pochi, e sempre di più. Soltanto 4 anni fa, io in quest'aula feci una cosa simile, diversa ma simile, e raccontai che all'incirca era il 10%. Oggi sono divi che sono tra il 30 e il 40%. Non escludo che andando avanti saranno molti di più. Le infezioni genitali nella popolazione maschile hanno una caratteristica fondamentale, che il tempo di clearance è più elevato per i tipi ad alto rischio rispetto a quelli a basso rischio. La durata dell'infezione è significativamente più lunga, fino ad arrivare a due anni, rispetto a quella dei tipi non oncogenici. Quindi questo è un punto molto... Quindi la tipizzazione è importante perché così sappiamo se è alto o basso rischio. L'infezione nell'uomo è nella grandissima maggioranza dei casi asintomatica e la trasmissione donna-uomo è molto più frequente di quello uomo-donna. È una delle rare volte, insomma, in cui succede anche questo. Bene. Infine, per chiudere la questione della spesa, la spesa all'incirca è una spesa che è valutabile più o meno sui 400 milioni. 340 come media, 415 se includiamo anche i costi dello screening, naturalmente, che sono 75 milioni di euro. Questo ci dice che stiamo parlando di un qualcosa che interesserebbe anche il governo Monti in questo momento, perché è circa mezzo miliardo di euro. Allora, adesso le cose che vi interessano. Sistema riproduttivo. Beh, in questo campo c'è da dire innanzitutto come prima cosa che ovviamente se l'HPV interessa gli organi genitali femminili e anche quelli maschili possono interessare la fertilità per definizione. Se c'è un tumore del collo dell'utero e c'è un intervento è ovvio, va bene, che la fertilità è bella e che è compromessa. Ma queste erano le cose che sapevamo fino a qualche tempo fa. È molti anni che la letteratura correla la presenza di HPV con la infertilità. Vi dirò anche che molti dicevano una cosa che pur in un certo senso era anche vera, e cioè il fatto che quando vi sono infezioni di HPV spesso ci sono state anche infezioni sessualmente trasmesse, per esempio la clamidia. E voi sapete che la clamidia è uno degli agenti patogeni più importanti per dare all'inizio lesioni asintomatiche, infezioni asintomatiche che poi risalgono, possono interessare le tube e possono portare chiaramente a un processo di infertilità. Il dato è però poco conosciuto dalla comunità medica non specialistica, ma io aggiungerei è poco conosciuto dalla comunità medica specialistica. Nella comunicazione per la prevenzione delle infezioni da HPV e delle infezioni sessualmente trasmesse questo dato non è mai utilizzato. Noi abbiamo fatto una piccola survey, abbiamo sentito un centinaio di specialisti e la cosa interessante è che soltanto 2 su 14 che facevano solo PMA, va bene, chiedevano qualcosa relativamente all'HPV. Allora andiamo a vedere un argomento molto interessante, che è quello dell'HPV e degli spermatozoi. Beh, innanzitutto non è difficile oggi con la FISH riuscire a fare un'analisi per l'HPV e in genere nella popolazione spermatica la media di HPV positività oggi è di circa il 25%, quindi è veramente molto alta e sicuramente non ce l'aspetteremmo una cosa di questo tipo. Allora, primo studio, 450 studenti di 18 anni asintomatici, 218 dicevano e crediamoci che non avevano mai avuto sesso, sì, non avevano mai fatto sesso, mentre 232 già avevano fatto. In realtà forse non mentivano perché i 218 non c'è stata traccia di HPV nel liquido seminale. Invece, sì, ecco il professor Lenzi subito suggerisce, va bene, di farlo come test di screening. 232 che l'avevano avuto, 122 usavano il profilattico e dicono nell'articolo che il profilattico era usato effettivamente fin dall'inizio, subito, eccetera, alla fragola, quello che fosse. Gli altri 110, va bene, non utilizzavano il profilattico. Bene, in quelli che utilizzavano il profilattico solo 3 erano positivi, mentre negli altri, bene, il 21.8%, 24. Qui si potrebbe aprire un capitolo, io una volta feci tutta una conversazione di mezz'ora sull'utilizzo del profilattico. Adesso non me la ricordo più bene, però le cose che mi sono rimaste in testa sono importanti da sapere. La prima cosa è quella che per la trasmissione dell'HPV, ricordiamoci che l'HPV può essere trasmesso molto facilmente cute-cute, ma questo vale prevalentemente, ricordatevelo, per il 6 e l'11, cioè per quei tipi di HPV che sono a basso rischio ma che possono dare però i condilomi. E questo spiega perché uno, nonostante utilizzi profilattico, spesso si piglia i condilomi. Allora, vedete che la percentuale non è bassa e rende ragione di quella questione di cui abbiamo parlato prima, che è più frequente il donna-uomo che non l'uomo-donna. Se andiamo a vedere poi gli articoli che ci sono in letteratura su HPV e liquido seminale, noi vediamo che effettivamente l'HPV quando lo si trova, lo si trova a livello della zona equatoriale della testa degli spermatozoi e questa è una cosa, anche questa, abbastanza interessante. E in realtà è la proteina capsidica L1, va bene, da parte dell'HPV che funge subito da legame e che permette, va bene, con il sindacam 1 di creare questo rapporto a livello della testa dello spermatozoi. Se guardiamo cosa succede in questi soggetti, dove c'è effettivamente presenza di HPV sulla testa degli spermatozoi, vediamo che la motilità ne è compromessa. E questo è un altro punto molto importante. Infatti se andiamo a vedere, vedete che c'è il cerchietto, sì, si vede, beh, in quelli infetti rispetto a quelli non infetti, vedete che la mobilità, va bene, è una mobilità nettamente inferiore, con una HPV di 0,05. E i genotipi riscontrati nei soggetti infetti, chi più ne ha più ne metta. Cioè c'è dentro un po' di tutto, c'è dentro sia il basso rischio, sia l'alto rischio. Ecco allora che il primo concetto è quello, che c'è l'infezione, che riguarda gli spermatozoi, riguarda quindi il liquido seminale, riguarda anche le cellule di sfaldamento che vi sono a quel livello, ma che riguarda tutti i tipi di HPV, va bene, e quindi indifferentemente questi tipi di HPV sono o possono essere effettivamente collegati con una ipomotilità. Se andiamo a vedere poi qual è il significato clinico e prognostico di tutto questo, effettivamente vediamo che il vero problema è quello che chi ne è affetto ha una fertilità che è nettamente diminuita. Allora andiamo a vedere l'HPV, il liquido seminale, in 597 soggetti che hanno condilomi, partner con l'HPV positivo, che sono infertili, varie cause, e i controlli poi dei fertili che non hanno niente di quello detto prima. Andiamo a vedere sia con la FISH che con la PCR per andare a vedere anche naturalmente il tipo di HPV. Bene, cosa ne vediamo? Ne vediamo che, pur avendo un'età media molto simile, se guardiamo la positività per l'HPV è molto bassa nel controllo dei fertili, 2.9%, mentre invece, come vedete, è bene il 53,7% quando c'è condilomatosi, quindi attenzione alla condilomatosi e a uno stato, va bene, di presunta infertilità. E il partner con HPV, bene il 41,3%. Per esempio, noi ginecologi, quando noi vediamo una donna affetta da HPV, rarissimamente andiamo a chiedere qualcosa per il maschio, e quando lo facevamo, lo facciamo, lo facciamo sbagliando, perché? Perché gli andiamo a far fare il prelievo a livello dell'astro del sol cubano prepuziale, ma a quel livello è il livello dove più rapidamente se ne va. Anzi, siccome generalmente il soggetto prende e di solito, prima di andare a farsi fare quell'esame, si lava bene, e incomincia a lavarsi cinque giorni prima, bene a sfregare lo spazzolino, tutto quello che volete, succede effettivamente che sfoglia, manda via, tutto quanto, arriva lì ed è negativo, ok? Quindi è una hidden infective disease, no? Perché è nascosto e certamente non si può andare a dentro, uretra e risalire, perché è un atto effettivamente eccessivo. Ecco, questo tenete alla mente importante. Importante quindi, se andate a vedere poi, i vari parametri dei soggetti HPV positivi, per quanto riguarda la questione della motilità, e vedete che sia negli infertili che quelli con partner HPV positiva, c'è una motilità che è nettamente inferiore rispetto a quella dei fertili. Quindi l'alterazione della motilità spermatica sembra essere indipendente dal ceppo di HPV riscontrato. Andrea, io poi te la regalo questa roba, per cui non so se la volete, se no la cancelliamo, voglio dire, non c'è problema. No, visto che le penne sono proibite. Perfetto. Poi, percentuale e tipo di cellule infettate. Anche qui, a chi si interessa di queste cose, naturalmente può essere estremamente interessante andare a vedere i vari tipi di oligo, oligome dorati, altro eccetera, e come vedete, la percentuale di positività variano a seconda e danno, correllano se vogliamo, va bene, rispetto al tipo di motilità. E qui, chi si vuole sbizzarrire lo può vedere anche con i diversi tipi di HPV. credetemi sulla parola, d'accordo, un po' tutti, va bene, funzionano effettivamente ad essere agenti di diminuire la progressione della motilità. La clearance. Beh, la clearance, la clearance dell'HPV nel liquido seminale a 24 mesi. Allora, qui la vediamo a 12 e a 24 mesi. E la cosa interessante è quello, che quelli che sono negativi, che sono negativi, come vedete, e quelli che sono positivi a 12 mesi. E abbiamo a 12 mesi, a 12 mesi, ben il 64,8% ancora di positività, che si riduce a 14,8%, va bene, a 24 mesi. Beh, anche questo è interessante. Perché? Perché effettivamente, effettivamente, la clearance in questo caso, del liquido seminale, quindi non del pene, non dello scroto, non eccetera, ma del liquido seminale, è una clearance più lenta, rispetto a quella invece che si ha in altre zone del corpo, compreso anche la ringe, faringe. La tenacità del binding, no? Della adesione. Ma la tenacità è notevole, effettivamente. Ed è una cosa, secondo me, molto interessante. Molto interessante anche per quello che poi dopo può succedere. Infatti, se noi andiamo a vedere bene questo meccanismo e l'abilità di fertilizzazione con spermatozoi infetti, c'è un'altra cosa estremamente interessante. Ed è quella che dipende quando avviene l'infezione. Cioè, se l'infezione avviene nel momento stesso, appunto, dell'entrata dello spermatozoi infetto nell'ovocita, la gran parte dei casi, ed ecco la infertilità, la gran parte dei casi, la blastocistina va avanti. E questa è una cosa molto interessante. A volte, però, può avvenire che ci sia, invece, un'infezione, perché il soggetto è infettante in sé, che scatta con ritardo, cioè dopo la prima divisione. Quattro o otto cellule. E a quel livello si possono avere varie cose, a seconda del tipo di HPV. Sembrerebbe che con l'HPV-16 si blocca tutto. E si blocca, soprattutto il 16 riesce a bloccare la formazione stessa della blastocisti. Mentre che il 18 blocca generalmente la progressione in sé, dopo quattro o dopo otto cellule. Questa è una cosa ancora in studio, molto interessante, ma che ci dice, naturalmente, tantissimo da questo punto di vista. Allora, beh, le parinasi terza, adesso devo andare un po' svelto, ma le parinasi terza giocano un ruolo importante perché? Per il semplice motivo, che se noi prendiamo, quando si fa la fertilizzazione in vitro, prendiamo questi spermatozoi e li laviamo semplicemente, vediamo che c'è sempre una percentuale nella quale non si riesce a liberare lo spermatozoo dall'HPV. Invece, se addizioniamo le parinasi terza, effettivamente si riesce a ottenere il 100% di liberazione. Quindi anche questo, nel futuro, può essere una cosa molto interessante. Sono state fatte anche delle esperienze cliniche, un'allestero in Italia con Perino, qui a Palermo, 199 coppie in fecondazione assistita. Beh, quali erano i fattori di rischio per il successo della fecondazione assistita? Beh, erano una l'età del maschio, d'accordo, e anche questa è una cosa molto interessante, però perché c'è un gradiente interessante a scalino, e l'altra è la positività per HPV nel maschio. Quindi, vedete che incominciano a venire anche dati della letteratura, questo era l'articolo. E allora che cosa dire, va bene? Che counseling dobbiamo fare alle coppie infertili? Informare o non informare? Perché, naturalmente, ogni volta che si informa di una cosa del genere, scatta un processo familiare, mediatico, incredibile, va bene? Internet e tutto il resto, eccetera, così via. Io personalmente ho assistito a molte separazioni di coppie, va bene? Per via di un HPV che magari veniva assolutamente da qualcun altro, e d'altra parte, va bene, l'informazione va data. Bisogna attendere cose, condilomi, fumo, alcol, rapporti protetti, cioè tutta una serie di cose che, naturalmente, vanno dette, vanno spiegate. Suggerire il vaccino? Beh, in un certo senso sì, ma il vaccino dovremmo suggerirlo, in realtà, prima di quei famosi 18 anni, o a quelli che erano a sinistra, vi ricordate dalla diapositiva, d'accordo, i Virgo, oppure quelli che erano, ma anche quelli che sono a destra, perché è improbabile che si infettino con i quattro ceppi che sono contenuti nel vaccino tetravalente. E proporre la selezione degli spermatozoi, poi con ne pare i nasi, naturalmente, se si sta facendo già un processo di fecondazione assistita. Gli ultimi 4 minuti e 30 secondi che mi sono concessi li do al vaccino anti-HPV. Beh, noi sappiamo che il vaccino funziona, ve lo dico rapidamente, va bene, funziona per il collo dell'utero, funziona, va bene, per le CIN2 o peggio, vale a dire per le lesioni intrepitaliali di gravo, medio o grave, ma la cosa interessante che pochi sanno ancora è che funziona anche nelle donne, non soltanto fino a 26 anni, ma fino a 45 e probabilmente anche molto di più. Ecco allora che è interessante la vaccinazione nella popolazione femminile di età più elevata, anche se ha già avuto 4 milioni di 200 mila rapporti, non importa, è 0,01% che tutti e quattro i ceppi siano comunque, in ogni caso, va bene, stati abbiano infettato la donna, non solo, ma adesso vedrete un'altra cosa interessantissima, queste sono 25-45 anni, la cosa più interessante è questa, che chi è stato vaccinato e chi non è stato vaccinato, il placebo, lo studio che era stato fatto. Bene, nelle vaccinate un certo numero è andato incontro, va bene, poi a degli episodi, cioè dei nuovi episodi di infezione, sia di vario tipo, così come in quelle che non erano state vaccinate. Bene, guardate qual è stato l'impatto del quadrivalente sull'incidenza di nuove malattie, va bene, dopo il trattamento per una patologia cervicale. Vedete che è nettamente inferiore, minimo 46% per i vari tipi di patologie, ma se andiamo a vedere il 6, 11, 16, 18, quello del vaccino, addirittura il 79% in meno. Cioè, effettivamente, sembra il vaccino proteggere anche contro future patologie date anche da altri HPV. E questo vale anche per le vin, vale a dire per la vulva, per la vagina e così via. La vaccinazione anti-HPV in Europa e negli Stati Uniti. Beh, in Europa il vaccino quadrivalente ha indicazione per la popolazione maschile fino a 15 anni di età, cioè gli adolescence, che è basata su studi di risposte immunitarie, in quanto non c'erano studi prima. Oggi abbiamo invece già gli studi e gli studi ci dicono, e provengono dall'Australia, ci dicono che effettivamente nella popolazione dei giovani che sono stati fino all'età di 18 anni, che sono stati vaccinati a scuola, dove è lì che si fanno le vaccinazioni, in tutta la popolazione australiana 97,4%, quindi praticamente tutti si sono vaccinati. Bene, il drop di condilomi in quella popolazione è sceso praticamente ad essere negligible, quindi praticamente zero. Quindi un incorpore vivo è stato dimostrato che funziona. In Italia voi sapete che sono le ragazzine, 11 anni, va bene, nel 2007. In America è arrivata all'ottobre del 2011 la raccomandazione di vaccinare di routine i maschi fra gli 11 e 12 anni di età e fra i 13 e i 21 anni di età quelli che non sono stati prima vaccinati o che non hanno completato le tre dosi, per quelli più avanti possono essere vaccinati. Oggi, va bene, oggi in America si dice è meglio vaccinarli. Questo è un dato estremamente importante perché porta quindi da tutto quello che abbiamo visto prima e che voglio riassumere. Tutte le patologie, sia le patologie oncologiche, ricordatevi che nel maschio le patologie oncologiche non è solo ano, pene, ma anche testa, collo. Sia quelle non oncologiche, in prevalenza la condilomatosi, ma anche tutte quelle pretumorali, bene. Inoltre, la fertilità, e abbiamo visto come, beh, allora da questo ne deriva, non può che derivarne, che il maschio è un soggetto che deve essere vaccinato. Perché non è vaccinato? In Italia in questo momento l'unico motivo è un motivo, chiaramente, di quattrini e basta. Ma noi qui non dobbiamo parlare, giusto, di quattrini, ho già parlato troppo. Infine, infine, ecco, la consensus, e finirei con questa, perché il professor Lenzi ha fatto parte di questo importante consensus. C'era due urologi e un endocrinologo, non so perché ti sei messo a sandwich tra due urologi, ma comunque, il, come dici? Dopo me lo spieghi. Allora, il professor Gentile, il professor Lenzi e il professor Mirone. C'erano dei quesiti. Qual è l'impatto delle patologie HPV correlate nel maschio? Che ruolo ha la positività del parne nelle problematiche relative alle patologie HPV correlate? Quale prevenzione delle patologie HPV correlate può influenzare significativamente la diminuzione dell'impatto di tale problematica nella popolazione maschile? E infine, la prevenzione primaria delle patologie HPV correlate nel maschio, che impatto può avere nella riduzione delle patologie HPV correlate nel partner? Beh, da queste. A maggioranza, due sole, perché si vede che li dicavate. Ma, allora, per motivi di prevenzione di equità sociale, si raccomanda la vaccinazione del maschio a dodicenne. Gli aspetti di politica sanitaria e sostenibilità economica non competono a quel tavolo tecnico, giustamente perché dal punto di vista politico sicuramente il professor Lenzi sa bene cosa deve dire e saranno affrontati in altre sedi e da altri soggetti. Giusto? Si raccomanda l'unanimità, ecco, qui c'era l'unanimità. Evidentemente prima c'era qualcuno di voi che invece voleva... Eh? Gli economisti sanitario. Gli economisti sanitario. Eh, capisco. Si ritiene opportuno che le regioni attivino un programma di vaccinazione HPV in regime di co-payment anche per i maschi, così come avviene per le femmine. Per esempio, in regione Lombardia adesso hanno dato l'ok. Quindi il maschietto può andare nei centri vaccinali dove si fa la vaccinazione per l'HPV e pagare il costo, quello che noi chiamiamo, non è un co-payment. In realtà è un costo sociale, chiamiamolo così, che è poi l'ex factory che viene dato, va bene, il prezzo che la ditta fa normalmente alle regioni. Particolare attenzione nei soggetti immunodepressi, eccetera, mi lasciamo perdere. Poi campagne di sensibilizzazione, è ovvio, approfondimento della ricerca, promozione di studi di prevalenza in popolazione maschile non selezionata. Cioè dovete capire che stiamo parlando in realtà di un qualcosa che una volta non esisteva. una volta si diceva che tutta questa storia qua era relegata alla donna. Ecco, io credo che effettivamente il tutto oggi vada visto in una visione che deve essere effettivamente universale. Io sono molto grato al professor Lenzi che mi ha permesso da ginecologo, va bene, di venire temporaneamente a penetrare un attimo, va bene, l'area anche di tipo prevalentemente andrologico proprio per questo motivo. Perché io credo che in effetti, da quello che avete sentito, che è sicuramente interessante da un punto di vista generale, molte cose devono essere cambiate. Devono essere cambiate in quello che si fa tutti i giorni, devono essere cambiate soprattutto culturalmente e soprattutto dal punto di vista culturale deve essere cambiato l'approccio che deve diventare davvero un approccio multidisciplinare e non semplicemente avvocato o all'uno o all'altro in quale poi dopo si dimenticano gli aspetti più importanti che è in definitiva trattare in questo caso la coppia o trattare la singola persona. Grazie. Grazie.